Il Parlamento nel 2004 ha istituito il giorno del ricordo, appunto il 10 di febbraio, in cui si ricorda e si conserva la memoria della strage delle foibe e degli esuli Giuliano Dalmati. Ha Fertilia il compito di conservare la memoria di quel periodo perché proprio in questo luogo la Sardegna accolse amorevolmente i nostri fratelli italiani.